Ad amici Isobel in lacrime racconta il periodo difficile della sua vita, Maria, mi dispiace. Isobel Kinnear è la ballerina di origini australiane, tra i protagonisti più amati di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Non solo ha un talento incredibile nella danza, Isobel ha anche una storia personale intensa che raramente ha lasciato trasparire nel corso del programma. Arrivata alla fase serale però, sembra inevitabile che alcuni tratti di vissuto vengano a gala per potersi esprimere al 100%. Nell'appuntamento di mercoledì 29 marzo con il Daiti Mediamici, la ballerina 23enne ne ha approfittato per parlare del suo vissuto. L'occasione è stata il guanto di sfida che le ha lanciato il professore Iman Juelo per una coreografia particolarmente emozionale. Sono entusiasta e curiosa di fare questa coreografia emozionale perché ho sempre sperato di farne una nel corso del pomeridiano. Ha spiegato la ballerina che ha raccontato di aver iniziato a danzare all'età di appena 3 o 4 anni. Non sempre però il suo percorso, di vita e di crescita artistica, è stato lineare. Sono stata fragile per un periodo di 3 anni, quando avevo circa 14 anni. È stato un periodo difficile. Ammette Isobel. Il primo anno alla mia migliore amica è stata diagnosticata la leucemia. Poi l'anno dopo ho perso la mia nonna, che mi era molto vicina. Si chiamava come me. Poi dopo ho perso anche mia zia e non me l'aspettavo, era molto giovane, ha raccontato in lacrime. Mi dispiace Isobel, io non volevo toccare certi tasti, ha commentato Maria De Filippi collegata con la classe. In realtà sono molto fragile, ha ammesso la ballerina che raramente ha lasciato trasparire le sue emozioni. Spiegando che proverà a sfruttare quello che prova nella coreografia emozionale che le è stata assegnata. Il primo anno dopo ho perso la mia nonna, è stato un progetto, è stato un progetto, è stato un progetto. Inca di quando era broke e si se usa da aerosol. Di quando avea mall, di quando non stiai ce mi scol. Di quando ascoltam Gangster...